Mister, è stata una partita difficile, chiaro, perché lo sarei detto in sede di presentazione, probabilmente questa Juventus in grande spolvero di oggi avrebbe vinto con 18-19 squadre su 20 di questo campionato, ma si aspettava un primo tempo diverso da parte della squadra magari? Della mia squadra? Sì, della nostra squadra, chiaro. Certo, mi aspettavo un po' più di personalità nella gestione della palla, il non lasciare tutto questo controllo alla Juventus che prende fiducia e si autoalimenta nel controllare la partita. Io avrei voluto che avessimo un po' più di personalità nella gestione della palla e nel mettere qualche dubbio in più alla Juve. Come poi è successo nel secondo tempo? Ovviamente è complice un risultato difficile e un pizzico di aggressività in meno da parte loro, però poi è successo che i nostri giocatori, che qualcuno si sia liberato e abbia cominciato a giocare a calcio come sa, a correre con e senza palla in avanti invece di essere timoroso come era accaduto in una prima parte, poco soddisfacente dal mio punto di vista. Ecco, questo fa parte del processo di crescita a cui faceva riferimento anche lei ieri in conferenza, magari liberarsi anche mentalmente ed avere anche quello spirito di intraprendenza già dall'inizio contro squadre così forti ed evitare magari primo tempi di difficoltà come quello che si era visto ad esempio anche contro la Lazio? Io mi auguro che sia così, mi auguro che sia così. Ovviamente i rinforzi, i feedback che danno fiducia sono quelli dei risultati, dei punti e quindi non è facile avere dei feedback positivi da una partita che perdi 3-0 alla fine del primo tempo, però ci sono delle qualità che noi dobbiamo esprimere meglio. L'ultima, cosa si trae da questa partita anche in vista del Cagliari? C'è la nota positiva di questa giornata che è il ritorno al gol di Nacio Pussetto che è un giocatore importante per questa squadra? La cosa positiva è che con più limiti, con meno limiti all'interno della partita, l'Udinese è stata comunque sempre una squadra di calcio, non si è disunita, sfilacciata, non ha perso giocatori, non ha dato la sensazione di sbandare e questa è la cosa, noi dobbiamo basarci su noi stessi, dobbiamo avere continuità dal punto di vista della presenza in campo di questa squadra.